Toro, occhio a come spenderete i vostri soldi questa giornata perché rischiate di farvi prendere un po' la mano, magari siete così euforici perché sappiamo il toro essere un segno che ci tiene molto alle tradizioni quindi arriva una festa tradizionale al 100%, forse la più tradizionale in assoluto dell'intero calendario e quindi rischiate di farvi prendere un po' la mano è una giornata in cui il lavoro però sarà in primo piano non avete molto tempo a dedicare a voi stessi